Si avvicina all'edizione numero 20 del Rally di Caltanissette del Vallone, prevista per i prossimi 22 e 23 ottobre, e che avrà una tripla validità. Sulle strade che si dipanano tra Caltanissette e Mussomeli si sfideranno infatti i piloti che gareggiano nella Coppa Italia Rally di zona e quelli del campionato siciliano per auto moderne e auto storiche, i quali animeranno il sesto historic rally di Caltanissette del Vallone. Gli organizzatori hanno lavorato parecchio per organizzare la competizione e trovare una buona collocazione nel calendario delle gare automobilistiche di categoria. Particolare l'interessamento del delegato fiduciario AC Sport Sicilia Daniele VII. Da parte sua l'Automobile Club Caltanissette ha schierato le proprie forze al fianco della scuderia Caltanissette a corse del gruppo piloti del Vallone. Le iscrizioni si apriranno venerdì 23 settembre per chiudersi mercoledì 12 ottobre, due giorni di coinvolgente automobilismo che inizieranno a Caltanissette con le verifiche sabato 22 ottobre nel cuore della città, la partenza nel pomeriggio e la superprova speciale. Domenica 23 si prosegue con nove prove speciali, tre da percorrere altrettante volte, con arrivo nel centro di Mussomeli, altra città della provincia nissena storicamente ad alta vocazione automobilistica. vengatorio 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 sf vengklär e